Ok, quindi abbiamo una registrazione in partenza e a questo punto vi condivido lo schermo. Ok, fatemi sapere se vedete lo schermo, dovreste vedere lo schermo. Ok, basta che lo scrive uno, basta che si capisca. Ok, lo vedete, perfetto, grandi. Allora, benvenuti a questa ultima sessione C++ prima della pausa estiva. Ho scelto questo formato un po' diverso dal solito per cercare anche di interagire un po' di più durante la presentazione. Quindi, come l'ho detto anche all'inizio, sentitevi liberi di entrare nella sessione con audio, webcam, quello che volete. Comunque anche di fare domande a voce direttamente, anche di interrompermi durante la presentazione. Ok, parliamo di Range, che è appunto una delle recenti addition che è stata fatta al C++20. È una sessione che io volevo preparare da un po' di tempo, perché comunque la libreria dei Range in particolare è una libreria che sto guardando, sperimentando, mi ci sto allenando da un po' di tempo e quindi avrei sempre voluto trovare un po' di spazio per presentarvi qualcosa. Allora, le slides sono in inglese perché probabilmente la rifarò anche in inglese in un'altra sede, quindi perdonatemi, ma comunque è un inglese ovviamente tecnico, anzi scusate i typo se ci sono degli errori anche di grammatica. Che cosa non ci sarà in questa sessione? Non voglio fare una sessione prolissa e troppo teorica, vorrei fare una sessione estremamente pratica, quindi non tratterò tutta una serie di cose come appunto customizzazione dei Range, quindi come si creano delle view o delle action, adesso vedremo cosa sono, personalizzate. Non voglio neanche andare a farvi una rigorosa compliance col C++20. Ci sono delle differenze tra Range V3, che è la libreria principale di riferimento, e C++20. Tra l'altro parlavamo con alcuni, tra cui Davide Di Gennaro, che in questo evento oggi facciamo con lui parte della delegazione italiana ISO, e parlavamo proprio del fatto che la libreria di Eric Nibler, Range V3, che è quella che poi utilizzerò io per farvi vedere un po' di esempi, tutti ovviamente vanno a pensare che sia la libreria più compliant con lo standard, in realtà ci sono delle cose che non sono esattamente compliant, o comunque ci sono delle imperfezioni, ci sono dei bug, quindi anche lì, ecco, con grande sorpresa a volte si scoprono questo tipo di cose. Cercherò quindi di, e non parlerò neanche di performance, detto francamente, perché? Perché comunque parlare di performance, come sapete, è un argomento a parte, e soprattutto perché molti algoritmi con i Range vengono scritti in maniera totalmente diversa da come li avremmo scritti in precedenza, quindi potrebbe essere anche forviante parlarvi di performance. Mentre quello che vorrei cercare di fare è cercare di farvi una introduzione soft ai Range, e cercare di trasmettervi un po' il mindset che c'è dietro ai Range, darvi un po' di tip, di trucchettini che si possono usare per cercare di impararli, per cercare di praticarli in particolare. Faremo anche un po' di esercizi insieme, lo faremo in una maniera, spero, un po' divertente, con dei giochi che sono in realtà poi dei quiz incrementali con delle domande, e, ripeto, ci sono queste bellissime magliette in palio, quindi ci sono due quiz, le persone che vincono un quiz vincono una maglietta, non so quando riusciremo a vederci per darvela, però comunque vi prometto che vi regalo una maglietta come questa, l'ho detto anche prima, chi gioca con questa squadra non perde mai, quindi è una maglietta sicuramente da possedere. Ultima raccomandazione prima di partire, l'unico modo, secondo me, di diventare bravi o comunque di riuscire a padroneggiare questo nuovo strumento che avremo nel C++20 è di allenarsi, quindi fare allenamento. Per fare allenamento non è che ci sia tantissimo in giro, io onestamente il miglior manuale che ho trovato in giro per allenarmi, in questo momento, è questo qua, questo libricino qua, fatto secondo me molto molto bene anche all'interno, è un compact manual, quindi molto poco prolisso, molto sintetico, molto visuale, e ci sono una valanga di esercizi, e c'è anche una sezione web digitale fatta molto bene, cioè il libro è riprodotto digitalmente anche, e ci sono anche tutta una serie di esercizi che si possono fare incrementalmente. Un po' sulla falsariga del secondo esercizio che faremo insieme oggi. Ho scritto a Wallet Fox per appunto complimentarmi per questo lavoro, e ho chiesto se appunto ci fornissero un codice sconto, ce l'hanno fornito, fino a luglio abbiamo questo sconto del 25%, ho lasciato anche un quick link italiancpp.org slash ranges per appunto andare subito alla pagina di acquisto, e appunto se inserite quel codice c'è il 25%. A mio avviso è un acquisto da fare per allenarsi con questo strumento, sono soldi secondo me veramente ben spesi. A questo punto partiamo. Introduzione soft high range. Partiamo da tanto lontano, da tanto tempo fa, e che cosa abbiamo, che cosa avevamo? Avevamo tuttora la triade del C++. Container, iteratori, algoritmi, che penso più o meno tutti conoscerete. Container, quindi strutture dati, con determinate caratteristiche. Iteratori, per accedere a queste strutture dati, creando una strazione tra il tipo di storage utilizzato e ovviamente i dati in sé, e le operazioni poi che si possono andare a fare. E poi i nostri algoritmi, che sono delle funzioni che vanno a processare i nostri iteratori, vanno a consumare i dati all'interno dei nostri iteratori per effettuare una qualche tipo di operazione. Ad esempio accumulate, quello che va a fare, va a fare la somma degli elementi nel range costituito appunto dalla coppia di iteratori. Ricordatevi sempre che il range è un range semiaperto, quindi l'ultimo, il secondo iteratore, è ovviamente escluso dalla iterazione vera e propria. Quindi l'algoritmo è come se usasse l'end iterator, quindi il secondo iteratore, come segna posto per fermarsi. Quindi quello che succede in questo accumulate è che vengono sommati tutti i numeri fino all'uno escluso. Quindi se non ho fatto male i conti dovrebbe essere un 14, 5 più 2 più 3 più 4, e viene 14. Allora questa cosa funziona piuttosto bene, è molto generica, ma ovviamente ha una serie di problemi, o comunque di critiche che sono state mosse negli anni. Una delle critiche è che è molto verboso, anche un po' tedioso, dover passare ogni volta questo range all'interno dei nostri algoritmi per effettuare un'operazione che poi il più delle volte è sempre sul range intero, quindi non ci serve spesso usare begin and end, ma ci basterebbe utilizzare, come vedete sull'ultima linea di questo esempio, ci basterebbe veramente utilizzare un sort passando di tutto il container. Poi ci sono anche degli altri errori un pochino meno frequenti, ma che possono succedere, li ho visti succedere anche in produzione, su codice testato un po' male, dove ci si può anche sbagliare a passare magari gli iteratori, quindi si potrebbe fare un iterator mismatch, quindi potrei fare un begin di un vettore e un end di un altro vettore, ovviamente succedono delle cose che è meglio non nominare, è meglio non addentrarsi all'interno di questo. E quindi questa è una delle prime critiche. La seconda è forse anche un pochino più forte, come critica è la mancanza di componibilità. Quindi ripeto, l'STL è estremamente generica, quindi è molto forte per quello che riguarda la parte di generalizzazione, quindi può veramente funzionare su qualsiasi container di dati, a patto appunto di soddisfare determinati requisiti. Quello che manca un po' è il concetto di componibilità, quindi anche la possibilità di eseguire i nostri algoritmi, non sempre obbligatoriamente su tutto il set di dati, ma anche la possibilità di eseguirli diciamo in maniera innestata. Cioè ad esempio qui io vorrei fare un filtro sui nostri utenti, che immaginiamo avere un'età, quindi voglio prendere soltanto le persone maggiorenni, dopodiché voglio poter estrarre da queste persone maggiorenni soltanto il loro ID. Ecco, se dovessi usare l'STL classica per risolvere questo problema, dovrei comunque fare due passaggi. Dovrei fare prima tutta un filtro del mio container, e poi dopo potrei eseguire un'altra funzione per estrarre gli ID. Quindi più delle volte esempi come questo non si vanno veramente a scrivere in questo modo, ma succede o che ti scrivi un bel loop, oppure probabilmente incastri più cose, più responsabilità all'interno dello stesso algoritmo, che non è bellissimo. Invece diciamo la meraviglia quasi dell'informatica è quella di poter comporre piccoli pezzettini che poi possono essere sostituiti facilmente. Quindi questo qua diciamo è una delle critiche più forti. Ovviamente questa è una critica che poi si sposa anche molto con le performance, di cui non parleremo, ma quello che succede è che spesso qui devi avere bisogno anche di strutture dati intermedie, fai più passaggi sui dati, ecco tutte queste cose ovviamente sono delle critiche. Quindi che cosa succede? Arriva una nuova speranza, arriva Eric Nibbler, il nostro cavaliere Jedi, che arriva appunto e rivoluziona un po' tutto questo mondo. In realtà bisogna fare delle premesse importanti, Eric Nibbler è sicuramente una persona estremamente brava, competente, viene da un, comunque insomma se cercate in giro chi è Eric Nibbler, vedete un po' anche il suo curriculum, però viene anche da un passato già esistente, quindi già di letteratura e anche delle altre librerie, di cui ovviamente lui era stato poi coinvolto. Però quello che fa nel 2013 è cercare di dare una nuova, diciamo una svolta a questa problematica che affligge l'STL, quindi quello che fa è si mette a scrivere questa nuova libreria, basata su Boost Range, ovviamente è una versione completamente rifatta, nuova, che soprattutto utilizza in maniera massiva quelli che sono i concept che appunto sono stati poi introdotti anch'essi nel C++ 20, e è forse la prima libreria, il primo modulo del C++ moderno, potremmo dire post-moderno, che utilizza in maniera veramente massiva i concept. Tra l'altro una curiosità che forse non tutti sanno, Eric Nibbler è stata la prima persona, forse l'unica, non so onestamente se ce ne sono state altre, però è stata sicuramente la prima ad aver ricevuto un grant, quindi del denaro, dalla standard C++ Foundation per ultimare la sua proposal. Quindi la sua inizialmente era nata come una libreria super rivoluzionaria con tanti concetti belli, innovativi, però non era ancora stata fatta come proposal per essere introdotta nel C++ come standard. Quello che la Foundation ha fatto è stato senti Eric, ti diamo un po' di grano, facci una bella proposal. E quindi più o meno, ovviamente, parafrasando un po', però questo è quello che è successo. Ha preso un grant e poi è andato a lavorare in Facebook, tra l'altro. Quindi, insomma, sicuramente è una persona estremamente professionale e che sta continuando a lavorare anche su questa proposta perché i giochi ovviamente non sono finiti. Allora, io intanto ritorno un attimo qui per vedere se avete qualche domanda. Ok, no, perfetto, fino adesso non ci sono domande. A questo punto che cosa succede? Succede che il vero formalismo introdotto all'interno del C++20 è il concetto di range, che è quello che ci dovrà accompagnare per tutta la presentazione. Che cos'è un range? Niente di complicato. Un range è un qualsiasi tipo iterabile, come nella maniera che siamo abituati a pensare in C++. Begin, end. Niente di più complicato. E come vedete qui è stato formalizzato all'interno di un concept. I concept sono un argomento dove si potrebbero dedicare tanti altri talk, però non è questo lo scopo. Diciamo che è un modo per creare un constraint, quindi dei vincoli su dei template. Anche per far uscire un messaggio di errore un pochino più comprensibile, soprattutto per rendere la vita molto più semplice al compilatore. Però sostanzialmente un concept è un modo per dare un requisito stringente ad un template. Quindi che cos'è un range? Un range è un tipo iterabile, come? Deve avere begin, end accessibili in questo modo che viene appunto espresso dal concept. Non è niente di difficile, lo state già facendo, state già usando i range, come con range base for loop, chiaramente. La precisazione da fare qui è che questo range base for loop è stato adattato nel C++ 17, quindi nel 17, per far sì che la definizione di prima fosse totalmente valida. Ci sono stati dei rilassamenti che sono stati fatti, però sostanzialmente è la stessa identica cosa di prima. Quindi un range è questo, quello che voi usate all'interno di un range base for loop. Non è niente di difficile. Quindi se già usate range base for loop avete già metà del lavoro praticamente sbrigato, in termini di capire che cos'è un range. Anzi, forse avete il 99% del lavoro sbrigato. Ci sono dei dettagli, come avevamo i dettagli sugli iteratori, quindi sapete che gli iteratori avevano delle categorie. Anche i range hanno delle categorie, non si chiamano categorie, si chiamano concept, quindi range concept. Che cosa sono? Sono delle ulteriori capacità che il range può esprimere. Quindi ad esempio un bidirectional range, che cosa sarà? Senza grande sorpresa sarà un range che sostanzialmente fa il paio un po' con il bidirectional iterator. Quindi un range che può essere iterato sia dall'inizio che dalla fine. Se vogliamo, questo potrebbe essere un possibile schema che mette in relazione i range con gli iteratori. Quindi abbiamo questo tipo di relazione senza grandi sorprese. Allora, la prima vera addition del C++20 è proprio questa di venire incontro al problema della verbosità e del mismatch, di cui parlavamo all'inizio. Quindi ci sono tutta una sfilza di nuovi overload che permettono di prendere il range direttamente, quindi ad esempio un container. Un container è un range, sì, perché ha begin and assolutamente accessibili, quindi funziona. Un vettore, una stringa, una lista, una mappa, sono dei range validissimi e quindi io potrei dare il mio sort, posso dare il mio vettore direttamente, senza dover fare altro. Ci sono dei dettagli di cui non parlo perché allungano il brodo, però sostanzialmente questi nuovi algoritmi, questi overload, aggiungono anche delle cose in più. Aggiungono ad esempio la possibilità di passare una proiezione. Quindi se io ho un container che contiene dei dati più strutturati, come ad esempio un utente, un ipotetico utente che ha, che ne so, un nome, una variabile membro nome, io posso in maniera molto fluente passare al mio algoritmo un riferimento dichiarativo a quel nome, come vedete nell'ultimo parametro, ve lo faccio vedere qui. Questo qui, come vedete, qui abbiamo il modo classico di accedere, di passare un puntatore ad una variabile membro. La libreria è piuttosto smart nel trasformare quella puntatore alla variabile membro in un qualcosa che poi può essere utilizzato all'interno dell'ess. Quindi è il parametro che poi finirà all'interno dell'ess per fare il compare e per trovare in questo caso il lower bound. Ovviamente ci si aspetta che quel vettore sia ordinato secondo name. Ad esempio qui se io quello user, se quello user fosse un vettore di utenti, sto andando a cercare il primo utente che inizia per mar come nome. Quindi se io poi vado a iterare in tutti gli elementi successivi, ho tutti gli elementi da mar in poi. Questa cosa si chiama proiezione, è un termine che viene dalla programmazione funzionale. Ok, quindi questo qua sostanzialmente ci risolve un po' la vita. Quindi abbiamo finito, è tutto. In realtà no. No, perché giustamente chi ha già visto un po' i range mi dice ma come, mio cugino mi ha fatto vedere un sacco di bellissime pipeline. Allora ve le faccio vedere anch'io queste pipeline. Guarda che bella che è. Fantastica. Mi scuso per chi non sa, non ha capito la battuta, perché ovviamente magari non ha visto i range prima, però sostanzialmente che cosa succede? Succede che arriva Eric Nibbler e dice io devo risolvere anche il problema della componibilità. E adesso andiamo a vedere un po' come questo problema viene risolto. Allora, il range ci dà la possibilità di astrarci un pochino di più dalla classica coppia di iteratori. Ci dà la possibilità di implementare un range con delle tecniche anche diverse, con degli schemi diversi. Uno è ancora valido, è la coppia di iteratori. Ad esempio un vettore, se dovessi rappresentarlo con un range, ovviamente lo rappresento sempre al solito modo. Begin, end, classico. Ma ci sono adesso delle nuove opportunità che ci danno la possibilità di implementare i nostri range ma neanche diversi. Ad esempio un iteratore con un contatore che ci permette di far andare avanti questo iteratore solo fino a un certo numero di elementi. oppure un iteratore più un predicato. Quindi un iteratore che va avanti ma schippa, salta, quegli elementi che non soddisfano il predicato. Ad esempio per fare un filtro. Questo noi riusciamo a farlo perché? Perché adesso abbiamo un oggetto solo in mano. Non abbiamo più i due iteratori. Poi sì, è vero, all'interno del range based for loop all'interno delle iterazioni classiche io avrò ancora a che fare con begin, end. Però end si fa più furbo di prima. Non è più un segnaposto, anche se il termine è brutto. diventa quella che si chiama sentinella. Quindi nel gergo dei range potreste sentir parlare di questo sentinella. Cos'è la sentinella? È l'end iterator, niente di più. Solo che questo end iterator adesso è più stateful, ha un po' più di stato, diventa un pochino più furbo di prima. E quindi possiamo implementare delle cose molto interessanti. Allora, com'è che diciamo, non voglio entrare in dettaglio, però com'è l'idea? Qual è l'intuizione? L'intuizione è che un range, abbiamo detto, che è qualsiasi tipo iterabile. Questo significa che supponiamo di prendere una stringa e di volerla filtrare andando ad estrarre solo le lettere maiuscole. Allora, la stringa filtrata con le lettere maiuscole potrebbe essere passata, quindi questa stringa potrebbe essere passata all'interno di un oggetto che espone le proprietà di un range, quindi un oggetto iterabile, ma che all'interno avrà un qualche tipo di intelligenza di predicato per far sì che quando viene dereferenziato, diciamo così, l'iteratore corrente, ritorni solo lettere maiuscole. Ad esempio io potrei creare questa funzione filter che mi ritorna qualcosa che non conosco, non mi interessa esattamente di che cosa è fatta il ritorno di questa funzione, ma che all'interno nasconde questa intelligenza. Quindi quando poi vado a iterare su questo oggetto ottengo direttamente le lettere maiuscole. Tutto sta ad implementare correttamente quello che c'è all'interno di questa funzione filter. E la buona notizia è che la libreria dei range, range v3, e buona parte dello standard, ovviamente non tutto è contenuto all'interno dello standard 20, si spera che ci sia molto di più nel 23, contiene una serie di nuovi range, una serie di range che fanno esattamente questo tipo di cose, ed è la rivoluzione completa per scrivere i nostri algoritmi. Ed è il concetto di view. Il concetto di view. Che vi faccio vedere subito con un esempio, quindi iniziamo subito a vedere anche del codice. Questo potete immaginarlo in questo modo. Ho un vettore, voglio filtrare questo vettore di numeri, andando soltanto a considerare gli elementi pari, e poi una volta che ho filtrato questo vettore, lo voglio trasformare, convertendo ogni numero in una stringa. Attenzione, qual è la caratteristica principale di questo pezzo di codice? Allora, come vedete c'è questo simbolino qui, che è una pipe di Unix, che ci consente di comporre questo algoritmo. Lo componiamo con tante di queste view, che adesso vi spiego meglio cosa sono, però sostanzialmente sono questi range che esibiscono un certo comportamento. prendono in questo caso un altro range all'interno, perché lo adattano a comportarsi in un modo diverso da quello di default. Il modo di default del vettore di comportarsi è ti do tutti gli elementi, ogni volta che tu mi iteri sul vettore io ti do tutti gli elementi. Filter che cosa farà? Filter creerà appunto un range che fa un filtro, quindi ricordatevi sempre, questo è un piccolo tip, filter uguale keep, quindi il predicato che voi date a filter esprime quello che voi volete tenere, diverso da remove if, che invece ti permette di dare un predicato sulle cose che tu vuoi rimuovere. Keep invece filter uguale keep. Quello che succede in questo filter è che ogni volta che io vado a iterare sull'oggetto risultante, questo oggetto view, filter andrà a chiedere un elemento al range che ha all'interno, quindi al vettore, finché non ne trova uno che soddisfa il predicato, altrimenti ritorna la sentinella, quindi l'enditrator. Però è interessante, che cosa è interessante? Che c'è un altro step successivo, lo step di trasformazione. La cosa bella è che non c'è un primo passaggio su tutti i dati filtrati e poi un passaggio su tutti i dati per trasformarli. Non è come l'STL classico, ma l'esecuzione viene fatta un elemento per volta. Quindi, quando io vado a fare quel, quando ho in mano quel view, io potrei accedere soltanto al primo elemento di view per far scattare la computazione, per far scattare la trasformazione, solo per il primo elemento. Quindi, per farvela breve, che cosa succede tecnicamente? Che transform va a chiedere a filter un elemento, perché lo deve trasformare. Filter che fa? va a chiedere al vettore un elemento finché non trova un elemento che soddisfa il predicato. Un elemento per volta. Quando, ovviamente, qui nell'esempio sto stampando, vado a consumare tutti i dati. Quindi sto chiedendo tutti gli elementi, quindi transform chiederà tutto, finché non riceve, diciamo così, un end-it-a-retor. Ok? Questo è il passaggio importante, adesso lo approfondiamo. Per avere un po' di dettagli in più, la view è come un'espressione, è come se fosse un'espressione pronta a essere valutata, è come una bomba orologeria, appena la tocco, scoppia. È come una mina, appena la tocco, scoppia. Che cosa succede? Quando ho in mano una view, questa view non fa niente finché non viene valutata. Valutata significa che ci devo iterare sopra. L'iterazione, ripeto, avviene elemento per elemento, quindi la valutazione avviene elemento per elemento. E questo qua è un po' l'esempio di prima. Qui sotto, come vedete, qui c'è questo, questa, questo modo che solitamente non si utilizza, però è per farvi vedere. Ovviamente le view sono dei range, quindi io posso, posso applicare begin per ottenere l'iteratore all'inizio della view. Posso dereferenziarlo, è un iteratore. Dereferenziare il primo elemento della view fa scattare la trasformazione per il primo elemento del vettore. Ok? Quindi che cosa, ve lo ripeto, transforme, va a chiedere a filter, filter va a chiedere al vettore, finché non trova un elemento che soddisfa il predicato. E qui è più o meno, ve l'ho provato a riscrivere come si può immaginare, quindi quando vai a fare una dereferenziazione, è come se si andasse a fare una dereferenziazione in cascata. Vabbè, più formalmente, diciamo, per darvi qualche dettaglio in più, anche per farvi rimanere sulle slide, la view è un qualcosa di estremamente efficiente dal punto di vista della creazione, della copia, del move operator. Quindi, è una view, quindi semplicemente è un'espressione che non fa nulla finché non viene valutata. È lazy, quindi viene valutata on demand, è un elemento per volta, non modifica mai i dati, la cosa bella è che descrive, quindi un approccio dichiarativo, l'operazione che vuole fare. Ok? Quindi è un approccio estremamente fluent, estremamente funzionale anche. Può essere composta anche in maniera elegante con queste pipeline, potete scegliere se scriverla con la pipeline oppure se fare una sintassi innestata. Un dettaglio, ci sono due modi di creare delle view. Quello che vi ho fatto vedere prima è il sostanzialmente creare un adapter, cioè creare una view tramite un adapter, quindi tramite una funzione che prende un altro range e restituisce una view. Ad esempio, la view cycle è una view che prende un range e lo ripete all'infinito, cioè ogni volta che io vado a chiedere un elemento a questa view, lui me ne dà sempre uno ogni volta che arriva in fondo e ricomincia dall'inizio. Se abbiamo tempo vi faccio vedere un esempio poi anche su questo. E poi abbiamo le factory, le factory prendono qualcosa che non è un range, ad esempio un numero, e ritornano una view, per esempio Yota. Yota è il classico modo per creare delle sequenze infinite. Vediamo se ci sono domande, forse c'è una domanda perché vedo qualcuno che sta scrivendo. Ah ok, devi andare, tranquillo. Ciao. Ok, quindi le view le vediamo approfonditamente perché è proprio l'argomento di oggi. Vi nomino soltanto che esistono anche le action, non le vediamo, tra l'altro non sono parte del C++20. Le action servono per fare modifiche sui dati con una sintassi più o meno componibile e fluente. quindi funzionano in maniera quasi complementare rispetto alle view. Fanno tutto il lavoro in blocco, sono quindi processate in maniera ingorda, eager, quindi che cosa vuol dire? Che tu passi i dati alla tua action, quello ti processa tutti e poi li restituisce per eventualmente lo step successivo. Fa un mutamento in place. Ok, qui vedete un po' di modi di, qui sotto vedete un po' di modi di usare le action. in questo primo esempio sto proprio muovendo letteralmente il mio vettore dentro un tubo, dentro una pipeline, lo sto ordinando e poi gli sto rimuovendo i duplicati contigui, quindi sto esattamente togliendo i doppioni da questo vettore. Posso fare la stessa cosa completamente in place, in realtà si può dire che è in place anche quella sopra perché sapete che il vettore poi quando lo muovi sostanzialmente stai spostando un puntatore, però la sintassi totalmente in place è la seconda che vedete lì, questa qua e poi c'è anche una sintassi inestata che è questa qua. Non parliamo di action perché secondo me sono anche piuttosto chiare da capire, vi faccio un'animazione proprio per farvi vedere anche le mie doti grafiche estremamente avanzate. Dati vengono mandati dentro la mia action, la mia action li processa, se li mangia tutti e poi ritorna i dati allo step successivo, quindi l'iterazione poi la facciamo dopo. Perché vi ho fatto vedere questa animazione? Perché adesso vi faccio vedere le stesse animazioni con le view, quindi guardate la differenza. Io ho finito il primo pezzettino, quindi se ci sono delle domande ditemelo adesso, altrimenti andiamo avanti. Mi rendo conto che effettivamente non abbiamo detto tantissimo, quindi adesso vediamo un po' di carnazza. Leo vedo che sta scrivendo, se hai una domanda anche se puoi dirla a voce, ci sono problemi. Dimmi tu. Il contenitore non deve essere air value. Allora, sui temporary adesso ne parliamo, sì, c'è un discorso da fare sui temporary objects, sugli air value, c'è una slide anche su quello, poi appena l'affronto ve lo dico. Allora, principi di riscaldamento sono i principi secondo me più importanti per iniziare a maneggiare questi aggeggi qua, quindi per iniziare a allenarsi e a fare un po' di prove con questi range. Allora, secondo me il principio più importante è quello che ho definito capire il flusso, cioè capire come funzionano le view nel senso di valutazione. Vi faccio vedere la view forse più semplice che c'è, la view che si chiama all. La view che si chiama all prende un range e quando gli si fa un'iterazione restituisce semplicemente l'elemento del range corrente. Quindi ogni volta che io chiedo un elemento ad all lui mi dà sempre un elemento ovviamente iterandoci sopra me li da tutti. Guardate anche rispetto al disegno che abbiamo visto prima, l'animazione che abbiamo visto prima sull'action, che cosa succede? Questo vettore viene dato in pasto ad all. Dare in pasto ripeto non è muovere il dato dentro alla view perché la view non può possedere dati può solo referenziarli ma la view diciamo è come se ne prendesse un riferimento. Poi che cosa succede? Se io vado ad iterare sulla view quindi gli chiedo un elemento per esempio faccio la dereferenziazione di begin lui che cosa fa? Va dentro al vettore e mi restituisce un elemento il primo poi gliene chiedo un altro mi restituisce il secondo poi un altro un altro fino alla fine e poi ovviamente end iterator sentinella finito. A che cosa serve all? Lo vediamo dopo è una view che potete immaginare ripulisce il range dal tipo del contenitore che c'è per dirlo un po' brutalmente però dopo vediamo che è abbastanza comodo come strumento. Vediamo un esempio un pochino più pelino più avanzato proprio un pelino filter che cosa fa filter? Filter prende il range e prende un predicato supponiamo che il predicato anche qui sia il numero sia un numero di prendere un numero dispari che cosa fa? Vado a iterare su filter quindi range based for loop che itera filter che fa va sul vettore e prende il primo elemento che trova che soddisfa il predicato per esempio dispari quindi ritorna 1 range based for loop seconda iterazione torna su filter filter torna sul vettore stavolta 2 non lo può restituire perché 2 è pari va avanti finché non trova 3 e poi al giro successivo tornerà end perché non ce ne sono più ok? perché c'era un 4 che non va bene questo è il primo questo è il primo principio e lo vediamo anche in altre forme quindi il primo principio fondamentale è capire il flusso un elemento per volta queste animazioni che vi sto facendo spingono i dati nella pipeline ma in realtà come vi ho fatto vedere anche prima i dati vengono estratti dalla fine verso l'inizio ok? però diciamo visualmente potete immaginare che i dati vengono poi sparati uno per volta in questo tubo altra cosa importante le view ovviamente non sono tutte uguali anche in termini di dimensioni di cardinalità dei range che restituiscono ad esempio c'è una view che si chiama chunk la view che si chiama chunk che fa proprio dei pezzi del range di ingresso fa proprio dei veri e propri pezzi ad esempio chunk2 fa dei pezzi grandi 2 quindi prende un range e lo spezza in altri range grandi 2 quindi che cosa succede? nell'esempio di prima ogni iterazione di chunk tornava un elemento del range quindi immaginate che il vettore abbia metti cardinalità 1 unidimensionale torna gli elementi del range quindi cardinalità 0 ok? chunk è diverso perché chunk che fa? prende un range che ha cardinalità 1 e torna ad ogni iterazione un range che ha cardinalità 1 ha la stessa cardinalità però attenzione che cosa vuol dire questo? vuol dire che se io andassi a prendere tutto il range generato da chunk otterrei un range di range ok? quindi se io andassi a prendere tutto il range è come se andassi a mettere un'altra bella parentesi qua e poi qui andassi a mettere 3 e 4 ok? ovviamente allo step successivo mi viene ritornato 3 e 4 ok? è per quello che ve l'ho aggiunto in coda come se avessimo un grande range ok? vediamo che cosa vuol dire questo in pratica vi aggiungo un transform dopo chunk vediamo cosa succede chunk l'abbiamo visto no? prima iterazione su chunk mi torna 1 e 2 come range quindi un altro range costituente 1 e 2 a questo punto io potrei potrei scrivermi un transform che viene appunto eseguito successivamente che cosa fa su quel range calcola la lunghezza del range calcola una size o una distance ok? quindi che cosa vuol dire che transform come input della sua lambda della sua funzione di trasformazione prenderà un tipo che è proprio un range quindi posso fare le mie operazioni proprio sul range quindi posso ad esempio eseguire distance su quel range e ottenere 2 in questo caso qua ok? come è scritto? così andiamo a vedere come è scritto intanto vi chiedo se ci sono domande no? ok non ci sono domande perfetto siete tutti vivi ancora no? sì non devo chiamare nessuno per farvi unire a prendere ok posto allora come è scritto questo come è scritta questa qua chunk abbiamo detto qui nel commento vi sto mettendo quello che verrebbe quello che verrebbe generato se iterassi proprio su tutto quanto no? quindi l'input viene passato in chunk se io stampassi il contenuto della view risultante in quel momento otterrei proprio questo range di range ok? però ricordatevi che stiamo iterando un elemento per volta ovviamente quindi che cosa succede? succede che input che cosa fa? viene diviso in pezzi quindi questo pezzettino viene trasportato in transform e quindi sta qua dentro ok? a quel punto io lì ho un range quindi ci faccio quello che voglio sapendo che è un range per esempio ci chiamo distance quando stampo tutto il risultato della mia pipeline ottengo 2-2 perché i chunk sono da 2 niente di niente di complicato ok? attenzione qui faccio una piccola domanda se qualcuno vuole rispondere prima anche vi ho fatto vedere quel begin dereferenziato quindi io potrei prendere potrei chiamare begin sul mio range risultante sul mio view risultante e potrei usare appunto l'iteratore direttamente potrei estrarlo direttamente invece di usare front così per curiosità c'è qualcuno che immagina in che caso potrebbe essere in che caso potrebbe essere utile questa questa cosa qui anche in chat se non volete dirmi la voce se volete dirmi la voce mi fa piacere se no anche in chat in che caso potrebbe far comodo cioè la rigiro dov'è che front non lo potrei utilizzare secondo voi che tipo di range dovrei avere all'interno pensate al C++ anche prima del 20 non sto parlando di cose difficili cioè c'è un tipo di range inteso proprio come coppia di iteratori che non potrei minimamente passare all'interno di qualcosa che è come front che quindi diciamo che vabbè il range vuoto in realtà glielo potresti comunque passare Roberto Roberto dice un range vuoto in realtà lo potresti passare poi ovviamente si spacca dove non compilerebbe che tipo di range non compilerebbe vediamo se qualcuno proprio alla front vi dico questo front potete immaginarlo essere come un modo di accedere ad un range che consente di accedere agli elementi in maniera quasi puntuale potremmo dire in realtà non è un accesso randomico però front obbliga richiede che il range che io gli passo sia quello che si chiama reversibile cioè devo poterci passare posso passarci più volte sopra vediamo se vi ho dato una mano così no set list no in realtà set list glieli puoi mettere vediamo se vi viene in mente qual è un range che vi viene in mente dove io non posso passarci più volte un input iterator esatto Alessandro dice un input iterator cioè se io vado a leggere per esempio uno stream con il range non posso usare front per accederlo perché front vuole almeno un forward iterator forward iterator significa che il literatore che io gli passo in realtà qui sto parlando di range quindi un forward range ci devo poter devo poterlo passare quindi devo poterlo copiare ed eventualmente ripassare più volte è qualcosa di reversibile il range non è così il range è un semplice input iterator quindi in quel caso devo usare begin ok ci sono altri modi però era giusto per darvi una piccola chicca così anche quando fate magari allenamento dovete fare troubleshooting al volo del vostro del vostro range risultante dalla vostra trasformazione ah non mi compila perché perché forse stai leggendo da input da uno stream usa begin ok in questo modo risolvi altro esempio di flusso ci sono delle operazioni che il flusso la cardinalità la trasformano al contrario quindi invece di crescere di cardinalità da range a range di range andiamo da range di range a range ok da 2 a 1 qui matrice immaginiamo la cardinalità 2 con il join che è preso dal linguaggio funzionale come forse si chiama flatten in linguaggio funzionale di solito comunque col join lì unisco tutti ok a questo punto questa matrice viene unita quindi il range risultante ripeto join che cosa farà ogni volta che gli viene fatta un'iterazione va a prendere gli elementi da matrix però riporterà sempre un elemento per volta quindi riporterà sempre un elemento del range del range di input però un elemento per volta quindi ad esempio front di flatten torna in questo caso il primo elemento se vado a stampare tutto flatten mi vado a stampare un range ovviamente con tutti gli elementi che sono stati uniti tra loro ok a questo punto primissimo esercizio adesso vi incollo il primo link questo qua ve lo incollo qui fatevi sotto via e mi mettete il diavoletto quando entrate così vediamo tutti quelli che entrano ok siamo una ventina quindi diciamo che mi aspetto che più o meno tutti giochiate tanto non si vince cioè non si perde niente si vince la maglietta non si vince no si vince si vince si vince la maglietta ok entrate tutti mettete il diavoletto così vedo che siete entrati mi raccomando non non vi perdete 12 dai 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 entrate 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 basta quel link potete andare anche su mobile potete aprire un'altra tab lasciatela aperta poi e non chiudetela dopo perché rimane la vostra partita in corso dai 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 aspettiamo dai arriviamo almeno arriviamo a 15 dai arriviamo almeno a 15 e poi partiamo ok dai anche da cellulare tanto comunque rimane la domanda poi rimane lì vincerà poi chi risponde prima quindi se rispondete dopo tipo 10 minuti ovviamente penso che prendiate tipo 0 punti ok dai siamo arrivati a 15 andiamo andiamo a scoprire la prima domanda ok la prima domanda è questa qua ok ci sono un po' di ci sono un po' di giocatori siamo arrivati a 16 perfetto pronti? attenzione ecco allora al join che gli abbiamo fatto prima gli aggiungiamo un chunk 2 e dovete dirmi qual è il risultato di front flatten? vai ok vediamo eh ci abbiamo tre opzioni questa dal vivo è meglio si diverte di più però che dobbiamo fare ragazzi? purtroppo mi ha detto male quest'anno e mezzo 3 2 1 ah avete votato tutti grandi quasi tutti grandi però anche chi ha sbagliato bravo brava o bravo comunque esce effettivamente esce 1 2 ok adesso qua vi vabbè vabbè lo lo ridò questo qua poi lo rifacciamo dopo ok andiamo a vedere perché è uscito eh è uscito questo questo risultato allora è uscito questo risultato per eh questa per questa ragione qua perché ovviamente ok join mi genera un range eh fatto dalla appunto dall'unione di di tutto però io poi lo voglio dividere in in dei pezzettini quindi appunto l'unione di tutto quanto l'abbiamo vista un po' nella slide di prima quindi è 1 1 2 3 4 5 6 se io poi gli aggiungo un chunk quello che chunk farà sarà andare a chiedere a join due elementi join gli da i primi due elementi del range di prima però flattenizzato joinato ok brutto joinato però avete capito insomma no quindi il join praticamente flattenizza tutto fa 1 2 3 4 5 6 chunk gliene chiede due gli da 1 e 2 ok questo è molto semplice poi dopo giochiamo più forte vabbè no in realtà ah qualcuno ha acceso Elvis ritarda Dario sicuro il microfono grande Elvis no se volete appunto se volete intervenire fatelo tranquillamente occhio solo al volume perché più che altro per non uccidere tutti i presenti ok questo qua diciamo che ve l'avevo detto anche prima no siamo tutti usando già i range quindi usiamo il range based for loop come meccanismo per immaginare quello che sta succedendo per fare anche per fare troubleshooting quindi immaginate se io ho una pipeline fatta così immaginate che questa pipeline è una roba fatta così sotto quindi viene generata una cosa più o meno intuitivamente è questo il discorso quindi dall'elemento iesimo del vettore io lo vado a passare qua però appunto guardate guardate bene l'ordine in realtà mi sa che questa slide è sbagliata bisognerebbe partire da C quindi no no bisogna partire da scusate quindi usiamo il range based for loop per fare anche troubleshooting eventualmente nella maniera migliore sarebbe ecco questo è il modo migliore forse spezziamo le nostre pipeline lunghe in delle pipeline temporanee in delle view temporanee tanto comunque vi ripeto ogni view è un'espressione quindi non è che vado a fare chissà cosa se io la mia pipeline la spezzo in tante view a livello di efficienza non cambia praticamente niente però possiamo usare questo meccanismo questo trucchetto per fare debugging per fare troubleshooting facilmente quindi per stampare ad esempio ogni esecuzione della mia della mia pipeline quindi ad esempio qui view 1 posso stamparlo poi view 2 posso stamparlo e quant'altro ok questo è un piccolo trucco più che altro per quando vi allenerete perché soprattutto ma anche dopo che vi allenate dopo un po' di tempo capita che uno fa la pipeline super figa tutto in una riga poi si spacca compile time non compila cioè capita sempre quindi così potete spezzare e debagare facilmente ovviamente oltre alla cardinalità queste view hanno dei requisiti hanno delle qualcosa che vanno a produrre in termini di concept ok un po' come gli iteratori bisogna starci semplicemente attenti qua vi faccio proprio un esempio classico che si fa in questi casi questo codice non compila cioè se io volessi fare lo split e poi il reverse dello split quindi se io volessi legittimamente dire ok split voglio che mi fai un reverse della parola del token split poi il reverse di this e poi il reverse di one non si fa così perché il motivo è questo sostanzialmente perché lo split produce un forward range quindi un range come vi ripeto che può andare in avanti e può essere ci si può ripassare sopra purtroppo reverse necessita di un range bidirezionale perché perché deve sapere da dove partire dal fondo cioè deve poter partire dal fondo ecco visto che split mi produce forward e reverse vuole bidirectional c'è niente da fare non funziona questa slide l'ho presa da wallet fox quindi questa è una delle cose vengono spiegate in questa qua è gratuita questa parte quindi questa qua c'è anche il link poi lo ritrovate nelle slide quindi attenzione ai concept adesso a proposito di attenzione ai concept se torniamo sul mentimeter cerchiamo di capire se questo codice funziona e se funziona che cosa può ritornare quella quel cout lì allora torniamo in presentation mode tornate tornate quindi tornate tutti sul link quello che vi ho incollato prima ecco bravi perfetto ci basta subito tutti i super flash la maglietta la volete 17 dai grandi perché giustamente c'è qualcuno in più pronti vai quindi guardate anche i commenti che vi ho messo per aiutarvi chunk take take prende da quel range ne prende un tot cioè iota è una serie infinita quindi il range sarebbe infinito con take tronco però attenzione dove ho messo take dove ho messo reverse sono un pelino più tricky questo un pelino un pelino dai tre secondi buttatevi 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 dai dai siete stati bravi comunque siete stati bravi comunque eh sul non compila effettivamente può trarre in inganno qui non compila aspettate che qua devo devo fare così perché sono stato talmente furbo da aver messo la musichetta perché puoi mettere la musichetta sul mentimeter che però voi mi sa che non sentite quindi si mette perché? perché di solito durante le presentazioni lo speaker mette l'audio del computer e si sente la musichetta eh infatti non c'avete la musichetta eh infatti perché sono un demente deficiente quindi vabbè me la godo io comunque andiamola a vedere questo è carino questo andiamola a vedere meglio allora ve l'ho spezzato un po' per farvi vedere quindi allora chunk di 4 che cosa fa? prende questo range infinito Yoda ve l'ho detto prima è il classico modo per fare delle sequenze infinite in C++ abbiamo Yoda dall'STL no? tradizionale che fa un range incrementale a partita dal primo elemento quindi 1, 2, 3, 4 infinito ok? questo è un altro dei lati positivi di avere i range con i range posso creare dei range infiniti perché? perché l'handy trader me lo trucco come mi pare e quindi riusciamo a farli chunk prende dei pezzi da 4 quindi ve li ho fatti vedere qua ok? pezzi da 4 bisogna fare un prodotto 4x5x20 ok? quindi per capire questo take fin dove fa arrivare il insomma l'ultima finestra dei dati quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 fino a 17, 18, 19, 20 ok? poi faccio reverse qui reverse è infame perché intuitivamente sembrerebbe che il reverse vada a prendere in questo caso fronte no? quindi io potrei immaginare che prendo questo e faccio un reverse lo ribalto invece no perché voi dovete sempre ragionare partendo come vi dicevo dal fondo reverse va a chiedere a take l'ultimo e il primo e li scambia il reverse funziona sempre allo stesso modo concettualmente il reverse di un vettore che fa prende l'ultimo il primo e l'ultimo e li scambia il secondo e il penultimo e li scambia intuitivamente fa una cosa del genere qui fa praticamente la stessa cosa prende il primo elemento quindi il reverse va a chiedere a take mi dai il primo poi fa mi dai l'ultimo quindi lì in quel caso è come se valutasse tutto mi dai il primo mi dai l'ultimo sì allora reverse è come se li scambiasse proprio tutti quindi scambia 1,2,3,4 con 17,18,19,20 e così via io gli ho chiesto il front quindi ottengo 17,18,19,20 questo è importante da capire questo è il flusso che bisogna capire il flusso parte dal fondo come richieste come pull la libreria è come se fosse in pull chiede dati ok i dati partono dall'inizio però poi vengono richiesti dal fondo quindi dobbiamo immaginare questa richiesta dei dati da reverse a take più o meno e viene fatto questo swap adesso la domanda vabbè ve la risolvo in un attimo io perché facciamo prima però la domanda potrebbe essere interessante come facciamo a questo punto il reverse di 1,2,3,4 dai proviamo vediamo vi lascio due secondi vi va di vi va di provare a dirmi come si potrebbe fare il reverse di 1,2,3,4 cosa manca con la pipeline in fondo per fare un reverse di 1,2,3,4 ditemelo o scrivetelo come siete più più comodi ci provo io vai Elvis grande grandissimo vai spara magari con all con all ok quindi tu direi se faccio eh però allora il problema di all però è che qui comunque quello che va a fare è che comunque ti restituisce un elemento del range io invece allora immagina immagina di far questo io voglio comunque ottenere voglio aggiungere un pezzettino alla mia pipeline per far sì che poi quando vado a chiedere tutto il range finale quando vado a chiedere di valutare tutta la view io ottengo i reverse di dei vari dei vari chunk quindi 1,2,3,4 rigirato 5,6,7,8 rigirato e così via c'è qualcuno che scrive front reverse apply è ancora più semplice l'abbiamo visto prima quando abbiamo estratto la dimensione da ogni chunk è lo stesso principio io sto facendo un reverse reverse mi sta dando ogni reverse mi da un range ok quindi ogni reverse mi da ad esempio qui mi sta dando 17,18,19,20 se io volessi invece di ritornare 17,18,19,20 ritornare la reverse degli elementi che vengono da take come devo fare? allora c'è chi scrive eccolo Marco bravo Marco grande transform perché io quello che voglio fare è togliere l'ultima reverse di mezzo perché abbiamo visto che fa quello che non vogliamo quello che voglio fare aspettate che ecco arrivato qua quello che voglio fare è prendere ogni elemento di take e ci voglio fare quello che voglio ogni elemento di take è un range quindi io questo range lo faccio arrivare ad una ad una view che mi permetta di fare una map una trasformazione ed è esattamente transform ok posso a questo punto transform che cosa fa? chiede un elemento a take quindi transform va qua gli dice take mi dai un elemento per favore sì take lo va a chiedere a chunk perché tanto take è semplicemente un modo per dire me ne dai massimo 5 più di 5 end iterator va da chunk e gli dice chunk mi dai un elemento sì ti do 1,2,3,4 quindi va ovviamente chunk va da iota gliene chiede 4 do rida take take lo da transform a transform arriva un range con range facciamo quello che vogliamo reverse sintassi ancora più slick questa perché io posso direttamente prendere la funzione che creerebbe la view e la posso passare dentro transform è trasparente diciamo come un less senza i parametri template qui fa una cosa transparent diciamo così e così lo riesco a fare se itero su tutta la view risultante ottengo tutti i reverse dei chunk carino no? si compone facilmente questo è carino vediamo se avete dei commenti ok no perfetto andiamo avanti dai che c'è ancora un bel po' da divertirci spero vi state divertendo allora due tre trucchi trucchettini giusto per allenarvi si possono mixare si possono mischiare le view e le azioni insieme? sì il principio è sempre lo stesso bisogna ricordarsi le basi le basi sono che le view si riferiscono a dati ed eventualmente restituiscono dei range adattati per comportarsi in qualche altro modo le azioni le action invece lavorano solo su dati che ci sono veri e propri non virtuali dati veri anche se in mezzo ci sono delle trasformazioni però devono riferirsi cioè ci devono comunque essere state alla fine quindi che cosa vuol dire? io potrei ad esempio creare uno slice del mio input o posso prenderne un po' di pezzi soltanto con take quindi posso chiamare tutte queste belle funzioni che non fanno altro che restituire dei pezzettini e posso eventualmente laddove ovviamente i requisiti poi della action siano soddisfatti posso passarli alla action per fare delle operazioni vere su dati veri chiaramente se io facessi un reverse di qualcosa che non esiste non funzionerebbe ok? perché lui vuole i dati come fa ad accorgersene? con i concept è bella spinta come libreria quindi è molto cattiva spietata quindi se ti becca ti ammazza l'unica cosa che non si accorge per esempio è quando provi a fare un reverse di uno iota infinito l'ho fatto prima compila però ovviamente vai in ciclo infinito quindi non so se è un bug della libreria oppure un problema con i concept che forse non sono abbastanza stringenti comunque quello provatelo che è carino questo è un esempio altro piccolo trucco si può mixare con lo stesso principio anche la view con l'algoritmo l'algoritmo alla fine fa delle cose anche più estese dell'action si possono fare anche che ne so accumulate abbiamo tutti gli algoritmi classici che vi ricordate ok? sort però attenzione anche qua gli algoritmi hanno i loro anche qui hanno i loro concept hanno i loro requisiti quindi posso fare accumulate di un closed iota? cioè di uno iota castrato tra un inizio e una fine? sì ovviamente sì perché? perché acculmate vorrà fondamentalmente un input iterator bisogna sempre capire da dove partiamo in questa cosa qua da un input iterator quindi vado avanti e li sommo tutti non posso fare sort di closed iota perché sort vuole dei random access iterator closed iota non dà dei random access iterator ho detto in altri termini dei random access range in realtà addirittura anche dei contiguous range però in questo caso i random access non li dà non compila ovviamente se partiamo dalle basi se capiamo sempre le basi qui non sbagliamo mai tanto poi alla fine ci scontriamo con codice che non compila però insomma potete mixare assolutamente mixare azioni algoritmi con le view ok? torniamo alla domanda che era stata fatta da Leo prima o l'osservazione in realtà che giustamente Leo ringrazio per averla fatta che ha fatto prima sta libreria non è che si sposa proprio bene con i temporary con gli arvelio cioè immaginate questo è un link che poi vi lascio così ve lo andate a leggere dove tra l'altro Eric Nibler risponde quindi ve l'ho lasciato per questo che cosa succede? succede che le view non possono riferirsi a dati temporanei deve esserci quello che si chiama un indirizzo stabile non può esserci un indirizzo un dangling non va bene quindi che cosa succede? se io avesse una mia funzione che fa un certo processamento di un mio range mi piacerebbe usarla e metterla in pipeline con qualcos'altro ad esempio qui ho una sorgente vorrei trasformare questa sorgente con la mia funzione e poi vorrei poter fare ad esempio un join di tutti i dati ok? non si può fare a meno che non inserisco un altro che a me non piace particolarmente tanto mi sembra molto un hack anche il nome non è che mi piace molto però per carità è stato introdotto successivamente per fare questo tipo di cose una view che si chiama cache 1 cache 1 cache avrebbe propriamente il risultato fino a quel momento dello step precedente cache 1 perché è un elemento solo quindi non è cache tutto cache 1 in modo tale che la view successiva che gli andrà a chiedere i dati vi ricordo sempre che le richieste sono fatte così il pool è fatto al contrario può riferirsi la view successiva può riferirsi ad un indirizzo stabile ok? in modo da poter funzionare correttamente quello che io vi consiglio è che questo aspetto magari se siete poco pratici lo affrontiate dopo perché non è veramente banale e anche Nibler da quello che ho letto in giro ci sta veramente ragionando anche su come poter migliorare un po' questo aspetto qua domande vediamo se c'è qualcuno domanda domanda vai 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 spara domanda sono tornato a vedere la chat vi ripeto non la guardo sempre perché ogni tanto scrivo con la penna ditemi ok non avete ok dimmi dimmi Yuri grande ho una domanda io sì vai ti volevo chiedere queste questi range sono utilizzabili nei siti quelli di competitive coding perché no ancora no no già quello che sono io appunto questi link che poi vi lascio agli esercizi sono tutti su Onebox che è uno dei compilatori online più famosi però purtroppo sui siti di competitive programming io non li ho onestamente ancora visti addirittura molti non hanno neanche C++ 17 quindi penso sia ancora presto sì 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 però insomma con Onebox si può sperimentare parecchio no perché sembrano molto utili per risolvere i problemi molti infatti esatto concordo concordo pienamente sì concordo pienamente infatti poi dopo c'è un la sezione finale con eventuali spunti per allenarvi competitive programming a manetta assolutamente sì ok grazie prego Yuri figurati quando volete entrate nello stream allora detto questo qualche pattern cioè qualche soluzione riusabile con questi range la prima è pokemon no vabbè non è le pokemon gotaprintmall cioè come si fa a stampare un container finalmente quante volte ci siamo dovuti scrivere delle utility metterle in librerie per stampare i vettori le mappe le liste vabbè le mappe ancora dobbiamo continuare a scriversi perché purtroppo le coppie le tubule ancora non non ci stanno non sono stampabili in automatico però con view all posso questo è una delle comodità con view all posso stampare i miei container perché all ritorna un elemento del range alla volta il range è stampabile dalla libreria quindi io posso usare view all per stampare vettori liste forward list tutto quanto comodo questo è una banalità però insomma se vi fa comodo per debagare è carino potete scrivere in tutti e due modi view all poi c'è anche un altro utilizzo carino di view all se c'è tempo ve lo faccio vedere se no rimane sulle slide vabbè per come funziona ve l'ho fatto vedere prima torna un elemento per volta il range è stampabile dalla libreria stampiamo elemento per elemento quindi ve lo fa lui da solo operazione complementare da range a container come si fa con un altro oggetto con un'altra funzione che si chiama to non è una view non è una view vedete che c'è ranges come namespace non c'è views non c'è ranges views ma c'è solo ranges è un consumatore prende il range lo consuma tutto e restituisce il container che voi gli date carino che non dovete neanche specificare il tipo di argomento del container vedete che qui vector non ha assolutamente il tipo map non ha assolutamente il tipo molto comodo esempio che vi sto facendo vedere qui sto generando i numeri da 0 a 10 e li sto mettendo in un vettore sotto sto generando anche insieme ai numeri sto generando anche le lettere dell'alfabeto a partire dalla A ma gli sto facendo una zip che adesso vi faccio vedere che cos'è però intuitivamente che cos'è zip in modo per combinare insieme due range e crearne uno nuovo che contiene le coppie di elemento per elemento e quello che faccio ovviamente essendo che questo zip crea un range di coppie lo posso mappare in una mappa creando ad esempio come vedete qui una mappa di lettere cioè di indice della lettera lettera banale giusto per farvelo vedere altro piccolo pattern ma più che pattern è un modo per farvi insomma per darvi un esempio di come si può ragionare con questi range allora come si fa a verificare che tutti gli elementi di un range siano uguali ok per esempio una stringa di lettere voglio voglio verificare che sia tutte lettere uguali come si fa vi ricordate unique dall'STL classico unique che faceva rimuoveva tra virgolette i duplicati adiacenti cioè gli elementi uguali e adiacenti ad eccezione del primo quindi l'idioma classico era sort e poi unique per togliere ovviamente i doppioni ok allora unique secondo voi che cos'è che fa vi ripeto remove è il remove dell'STL quindi non è che le rimuoveva davvero lì faceva sovrascrivere con gli elementi buoni in questo senso secondo voi una vista unique un view unique che cosa vi aspettate che faccia view unique se io gli do un range supponiamo un range di elementi appunto ordinati ma anche non ordinati necessariamente che cosa potrebbe fare secondo voi bravo Elvis è come un filter Elvis poi mi chiede come vengono allocati container con tu in maniera incrementale o con un'allocazione unica ti dico la verità non lo so non l'ho verificato bisognerebbe verificare mi aspetto conoscendo un po' la meticolosità di non dico di Eric Nibbler ma proprio in generale la meticolosità di coloro che stanno dietro alle implementazioni delle librerie C++ e poi in conseguenza dello standard io mi aspetterei che la libreria prenda delle decisioni a seconda che questo dato della dimensione sia conoscibile o meno ad esempio ovviamente se stai parlando di un range non puoi preallocare tutto perché il range relativo ad un input stream non so se ho detto range forse ho detto la parola se stiamo prendendo il container se lo vogliamo costruire a partire da uno stream di input ad un input stream non possiamo sapere quanto è grande a priori quindi in quel caso allocazione unica probabilmente non si può fare ma ci saranno altri casi in cui questa allocazione unica si può fare quindi mi aspetto che la libreria sia abbastanza furba con tecniche di metaprogramming per distinguere a seconda dei concept che ci sono dentro un caso o l'altro quindi se fare uno però questo non lo so te lo dico la verità Davide vedo che sta scrivendo forse è più preparato su questo Davide se vuoi intervenire anche a voce se vuoi magari si fa anche un po' prima vedi tu però vai Davide sì hai assolutamente ragione immagino anche io che a seconda di che tipo di range precedente a seconda di quanto ne sa del tipo di range che gli danno in mano tu container farà l'allocazione più e più efficiente immagino esatto immagino però dico la verità non l'ho visto quindi è un'ottima domanda Elvis secondo me questa è un'ottima domanda la paura che ho è che se vado a spulciare il codice poi non dormo ne parlavamo con Davide a proposito di un altro pezzo di codice di una proposal standard di qualche giorno fa comunque no scherzi a parte sicuramente si impara tanto da guardare il codice di una libreria come questa e quindi anzi se ve la sentite andatela a vedere perché secondo me è molto molto interessante anche le tecniche che vengono utilizzate a questo punto andrei avanti per farvi per dirvi quindi come dice Elvis Unique è un filtro effettivamente è un filtro quindi restituisce l'elemento il primo elemento e poi quelli uguali successivi non li restituisce quindi la cosa carina è che si può fare una cosa del genere cioè se io ho tutte lettere uguali vuol dire che Unique torna un elemento solo banale no? domanda domanda qual è l'aspetto negativo di controllare in questo modo la stringa vediamo se qualcuno ha un'idea qual è un aspetto negativo di fare una cosa del genere vediamo se qualcuno gli viene un po' l'idea cioè è carino da vedere però io non lo metterei in produzione vediamo se c'è qualcuno che sta scrivendo vediamo se qualcuno se volete dirlo anche a voce ecco li guardi tutti Samuele dice li guardi tutti e che li guardi e fa tutti se c'è AB perché devo guardarli tutti non serve giusto anche Carlo giustamente anche lui non serve a niente però è solo per farvi vedere una cosa carina per farvi ragionare un po' su come funzionano quindi come si potrebbe fare carino così con adjacent find algoritmo però non è una view la view solitamente li consuma cioè è fatta per andare a fare un consumo puntuale di un elemento ed esprimere un certo comportamento per cose tipo questa dove devi fare il cosiddetto early exit non va bene devi usare un algoritmo va bene poi si potrei farmi una view ad arte che ti dà un end iterator se trova un primo diverso però non è fatto con con unique ok con adjacent find quindi per darvi un'idea qui possiamo fare una cosa del genere ok poi altro pattern zip e zip width finalmente ce l'abbiamo l'abbiamo anellato penso per anni per decenni insomma almeno per fare certi algoritmi sono comodissimi io ebbi un'illuminazione nel 2015 quando scopri che inner product poteva essere una diciamo un modo per scrivere zip width con anche una una reduce quindi zip map reduce sarebbe però ecco zip e zip width sono ovviamente dei modi molto più parlanti per esprimere lo stesso lo stesso concetto quindi zip consente di combinare due range per crearne un altro di coppie contenenti gli elementi dei due range ovviamente con gli elementi in corrispondenza enumerate è solo per citarvelo e serve a fare la cosa che abbiamo fatto sopra cioè serve appaiare gli indici di un range con appunto cioè gli elementi di range con i loro indici e zip width invece gli consente anche di mappare la coppia e di trasformarla in qualcos'altro quindi combinare la coppia in un altro elemento in modo tale che da una zip width come quella che vedete nell'ultima riga qui ci sono due vettori e i due vettori vengono sommati elemento per elemento se gli metto multiplies fa il prodotto dei due ovviamente dei due se faccio un accumulate se io metto multiplies e metto un accumulate come algoritmo che consuma i dati ottengo inner product fondamentalmente raggruppamenti quindi c'è anche un bellissimo una bellissima view nuova group by nuova perché non c'è un analogo nell'STL come algoritmo group by consente di fare un arrangiamento degli elementi in gruppi proprio a patto che nel gruppo venga soddisfatto un predicato ad esempio per contare le frequenze di una stringa delle lettere di una stringa si potrebbe fare un sort quindi tutti gli elementi vengono ordinati tutte le lettere vengono ordinate e poi si possono raggruppare per per criterio di uguaglianza quindi le A vengono raggruppate tutte insieme poi c'è la C poi la I poi le O insieme e poi dopo di che noi possiamo fare il classico transform che abbiamo visto anche prima per estrarre la lunghezza e quindi per avere effettivamente le occorrenze se io poi ci facessi uno zip con le lettere che sono state ordinate in precedenza posso proprio fare una mappa con lettera occorrenza lettera occorrenza la cosa come funziona group by fondamentalmente funziona andando a prendere il primo elemento e poi va a eseguire il predicato col secondo poi va a eseguire il predicato tra il primo e il terzo il primo e il quarto il primo e il quinto poi quando arriva la C il predicato è rotto quindi è come se tagliasse il range sfornasse questo range parziale che ha accumulato fino a quel momento e poi funziona e poi va avanti è come se avesse un doppio puntatore la tecnica è più o meno quella del double pointer per chi conosce queste tecniche qua quindi si possono creare degli algoritmi interessanti che più o meno lavorano con una tecnica double pointer giusto per citarvelo non lo approfondisco c'è un meccanismo di list comprehension quindi il classico set builder pattern per creare range anche multidimensionale con una sintassi che richiama molto quella appunto per esempio del python quindi con un for each e con uno yield yield ci sono diverse forme c'è uno yield normale yield from yield if non lo approfondisco più di tanto perché è diciamo potrebbe quasi in alcuni casi superfluo questo pattern qui ci sono degli utilizzi interessanti magari però onestamente allungherebbe solo il brodo però ve lo insomma ve lo volevo riportare non c'è in c++20 questo ve lo do come info ma si può sempre sostituire for each con transform joint cioè praticamente il for each è come un transform ma fa anche una flattenizzazione del range ok a questo punto visto che sono rimasti proprio i nostri credo 10 minuti siamo proprio in perfetto orario per fare gli ultimi due quiz allora Elvis chiede possiamo fare più di due range con zip mi pare di sì però non me lo ricordo ti dico la verità zip range forse no però non mi ricordo onestamente se lo puoi fare però allora quello che so è che sicuramente si può fare se lo vediamo al volo si può fare sicuramente il prodotto cartesiano ovviamente è Nario allora zip sì 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 è nel range è nel range sì effettivamente me lo aspettavo però volevo essere sicuro quindi vi ho fatto vedere direttamente la documentazione sì ovviamente questo è documentato non benissimo lo dice lo stesso Eric all'inizio dice scusatemi saluto Davide che sta andando ciao Davide ok ritornate a questo punto sul mentimeter ritornate a quel link là tornate tutti qui vi do qualche altro secondo facciamo gli ultimi due esercizi uno è questo ok dovremmo esserci più o meno tutti come controlleresti se una qualsiasi mano a poker è un colore qui non c'è codice da controllare come si potrebbe fare secondo voi vediamo un po' non necessariamente nel miglior modo però tra queste proposte vediamo un po' se divertente perché io sento la musica però non ve la posso far sentire stava bene proprio ok vediamo avete votato in 15 no ah pensavo foste andate tutti spediti su allora mi scufionate perché so c'ho sta musica allora all of si può fare con all of il problema qual è è che tu non sai veramente qual è il seme che vuoi controllare tu vuoi verificare che le carte siano sostanzialmente tutte uguali in termini di una proprietà la proprietà in questo caso è il seme ok quindi è il pattern che vi ho fatto vedere 5 minuti fa quello di checking if or are equal ok quindi se torniamo un attimo qui qui c'era ok è esattamente questo allora ve lo faccio vedere velocissimamente anche qua mi serve un un browser ok lo faccio vedere al volo no aspettate eccolo qua immaginate di avere uno schema molto semplice un enam con i semi un enam con i numeri per non fare degli int ma chi se ne frega carta struttura carta con valore e seme proprio banale is flash potrebbe essere fatto così oppure con adjacent find ovviamente però lì era per capire se avevate colto un po' il pattern il pattern non è tutti sono uguali tutti soddisfano lo stesso predicato sostanzialmente predicato unario in questo caso no binario in realtà però comunque hanno tutti la stessa lo stesso seme quindi quando io confronto gli adiacenti l'adiacente diciamo l'elemento l'elemento 1 deve essere uguale all'elemento 0 sostanzialmente e l'uguale qui vuol dire come vedete proiezione sulla suite oppure potete farvi la lambda che prende la carta e accede a suite quindi accede al seme e appunto ritorna l'uguaglianza su quel seme il transform poi quello che va a fare mappare chiaramente ogni carta con il con il proprio seme unique poi andrà a fare semplicemente una un filtro e quindi tornerà soltanto un elemento nel caso in cui tutte le carte hanno lo stesso lo stesso seme oppure lo facciamo con adjacent find come abbiamo visto prima qui ci sono giusto un paio di esempi a questo punto via ancora sul mentimeter per l'ultimo di questa serie e poi apriamo un altro apriamo un altro un altro mentimeter c'è un altro mentimeter perché la versione free purtroppo non mi fa fare più domande quale view potreste utilizzare per implementare l'algoritmo adjacent difference adjacent difference fa le differenze tra gli elementi adiacenti lo vedete qua 7-5 fa 2 ok 7-5 fa 2 8-7 fa 1 12-8 fa 4 si 7-5 fa 2 8-7 fa 1 12-8 scusate fa 4 eccetera eccetera come si potrebbe fare con queste proposte che vi do chiaramente vediamo se avete colto un pochino il pattern che ci può essere dietro allora effettivamente c'è un allora esatto qui qui è interessante perché chunk effettivamente potrebbe sembrare ma in realtà attenzione perché chunk aspettate che qua devo uscire abbiamo la effetto allora chunk potrebbe sembrare ma non è lui perché chunk non non fa una sovrapposizione delle finestre ok chunk fa gli elementi li li taglia tra virgolette cioè fa delle finestre ma che non sono overlapping non si possono sovrapporre mentre per fare adjacent difference noi abbiamo bisogno di eventualmente se lo volessimo fare in quel modo abbiamo bisogno di sovrapporre gli elementi adiacenti quindi ad esempio se noi volessimo implementarlo lo dovremmo implementare così cioè dovremmo mettere il range insieme allo stesso range con uno shift di qualche modo in qualche modo quindi e poi andiamo a prendere questo questo assomiglia effettivamente a uno zip width ok fatto in questo modo va bene quindi si può vedere come uno zip width dove devo andare a ritagliare diciamo così il secondo range che in questo caso lo sto dando come primo argomento per una comodità del fatto che io poi posso usare minus direttamente quindi io voglio fare ve lo faccio rivedere io voglio fare questo meno questo quindi il primo range deve essere questo il secondo range deve essere deve essere deve essere droppato diciamo così quindi il primo range viene cioè il primo range scusate viene droppato cioè il primo range parte da 7 il secondo range deve essere il vero range ok quindi è per quello che io ho messo drop per primo solo per tanto perché così il minus mi viene gratuito se vogliamo essere super stringenti ci andrebbe messo anche in testa il primo elemento immutato quindi un vero adjacent difference verrebbe fuori come primo elemento farebbe rimanere il primo elemento immutato e poi andrebbe a fare le differenze adiacenti quindi dovrei metterci anche come vedete qua c'è questo c'è questo concat all'inizio che prende il primo elemento e lo mette all'inizio anche questo è carino perché poi viene fatto tutto lazy si può fare anche in qualche altro modo l'esempio che vi avevo proposto se volete poi potete andarvelo a vedere guardate un attimo che adesso ve lo faccio vedere che è questo qua è questo qui questo esempio qua sostanzialmente ci consente di un esempio molto così un po' abbastanza pratico immaginate una gara automobilistica i tempi solitamente vengono riportati in due formati o il tempo dal leader quindi i dettagli fondamentalmente il leader ovviamente ha un ritardo di 0 millisecondi da se stesso il secondo ha un ritardo di un secondo dal primo il terzo ha questo ritardo dal primo eccetera quindi questo tipo di formato solitamente si chiama leader o qualcosa del genere cioè vuol dire che ciao Domenico saluto anche a te questo qua si chiama leader vuol dire vengono presi dei tempi diciamo in una sorta di scala assoluta dal primo della gara possiamo convertire questo in un altro formato che spesso viene utilizzato che si chiama il formato interval cioè semplicemente i gap tra i piloti vicini come possiamo farlo con adjacent difference ok quindi possiamo riportare ad esempio come vedete il fatto che il primo appunto ha un ritardo di zero da se stesso in questo caso qui non ha alcun senso però adjacent difference è come se riportasse il primo elemento così com'è il secondo dista dal primo 1000 il terzo dista dal secondo questa volta 500 perché vedete che la sua differenza è questa e così via ok qui poi vi lascio anche un altro spunto l'avremmo potuto fare con qualcosa tipo chunk sì l'avremmo potuto fare con un'altra view che però si chiama sliding sliding crea dei chunk però sono sovrapposti cioè sono delle finestre che appunto slittano che è proprio una finestra che va a slittare tra gli elementi la grandezza della finestra è data dal parametro quindi 2 in questo caso però la differenza con chunk è che slitta tra gli elementi quindi ti permette di fare gli adiacenti e ti permette di fare l'adiacente tra un chunk e l'altro mentre chunk non permette di fare l'adiacenza tra un chunk e l'altro perché sono tutti chunk distinti qua invece hai una sliding window che si muove ok a questo punto ultimissimo esercizio proprio super ultimo se voi ah no vogliato se no ve lo facevo vedere tornate ah no devo darvi un altro link purtroppo devo darvi un altro link perché appunto il mentimeter non mi faceva fare più domande eccolo qua andate su questo io ho già pronto qua perfetto ottimo 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 andate tutti mettete il cuoricino quindi ho cambiato dal diavoletto al cuoricino il nostro scopo è quello di decrittare di decodificare dei messaggi i messaggi arrivano in questo modo niente di complicato sono string con lettere e numeri dobbiamo estrarre i numeri che ci sono tra le lettere quindi come vedete qui abbiamo A123 BC34 D8 EF34 il nostro scopo è estrarre i numeri e in qualche modo stamparli però a fatto che non ci siano duplicati quindi noi non dobbiamo stamparli proprio tutti così come arrivano ma dobbiamo fare in modo che poi non ci siano i duplicati ok allora vi vedo già in 13 entrati penso che siate più o meno tutti aspettiamo qualche altro secondo quindi qui c'è un altro esempio come vedete qua e ricordatevi non conta l'ordine di come vengono stampati ma conta il fatto che non ci siano doppioni ok venite tutti qua penso che ci siete arrivando tutti vabbè pronti a partire ok mettete un cuore tutti qua pensavo lo mettese soltanto all'inizio però ve lo fa mettere ad ogni slide ok ci siete tutti ottimo ok primo pezzettino che dobbiamo scrivere il primo pezzettino è la divisione dobbiamo isolare le lettere dai numeri ok dobbiamo isolare appunto quegli elementi che hanno tutti la stessa proprietà ok non vi voglio dare altri indizi perché se no è troppo semplice poi vi voglio proprio agguerriti perché abbiamo queste in palio che sono delle bombe ok dovreste avere no forse manca una persona perché se no il mentimeter mi dice che avete votato tutti vai 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 forse eravate più di no ah pensavo cavolo avete messo filter eh no perché io vi ho detto dobbiamo isolare i numeri dalle lettere quindi in realtà era più un raggruppamento era più un group by questo qui effettivamente forse si potrebbe anche fare con un filter però per come ve l'avevo posta io quindi isolare i numeri dalle lettere comunque vabbè diciamo era un po' ingannevole mi rendo conto effettivamente poteva essere un po' ingannevole si può fare un group by come si può fare così faccio vedere eccolo qua cioè si possono raggruppare questi elementi ehm perché io devo effettivamente controllo effettivamente che tutti gli elementi con la stessa proprietà siano all'interno dello stesso dello stesso range ok sì effettivamente sto pensando si potrebbe fare anche con il filter però qual è la grossa differenza è che filter non mi aiuta tantissimo perché i numeri poi me li diciamo unisce tutti cioè non saprei quando un numero e quando finisce un numero inizia un altro capito cosa intendo cioè sono tutti flattenizzati poi questi numeri cioè se avessi filtrato avrei avuto uno due tre quattro tre quattro otto tre quattro non troppo non troppo non troppo facile poi distinguerli no no assolutamente groupby accetta il predicato infatti quello che vi ho fatto vedere prima come esempio era il predicato era equal to forse ve l'ho fatto vedere di fretta la slide se sono andato di fretta vi chiedo scusa però il groupby prima aveva equal to in questo caso sto usando isalfa uguale uguale isalfa perché voglio che la caratteristica di essere una lettera sia comune tra tutti gli elementi del mio sottorange che vado a creare con il groupby ok questo è un po' l'idea poi magari la possiamo anche approfondire a questo punto secondo secondo pezzettino siamo arrivati quindi a distinguere lettere e numeri ok abbiamo dei range con le lettere insieme i numeri insieme ovviamente in ordine di come compare nella stringa secondo obiettivo della nostra pipeline dobbiamo andare semplicemente a dire ci interessano solo i numeri quindi qui che fareste se ci interessano solo i numeri qui vi voglio proprio vi voglio proprio rapidi cioè dove tipo già dovereste aver finito scherzo anche perché vista l'ora pure fame vai eh c'è questa in palio bravo oh grandi vedi qui ci vuole il filter qui ci vuole si transforme unique no transforme unique no qui in questo caso è filter qui mi servono i numeri filter possibile implementazione ce ne sono tante mi chiedo se il primo elemento del range è una cifra perché tanto io so che se non è una cifra sono lettere perché io le ho filtrate prima anche con group by le ho distinte prima ok vi è chiaro questo perfetto terzo stage attenzione qui si fa ancora più interessante adesso che cosa succede ok abbiamo dei range con i numeri ma mi servono veramente i numeri cioè mi serve che li trasformiamo con qualche numero adesso qua qua già vi ho tolto una scelta qua con quello che vi ho detto già ve ne ho tolto una già una ve l'ho tolta vediamo come riusciamo a rendere questi numeri veramente dei numeri vai 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 ragazzi e ragazze dai 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 che ci siete eh dai qua voglio voglio un ampli ah no no toint non c'è questo era un tranello che ho messo sai sai quando si mette tipo il trabocchetto nel livello toint allora il to come vi ho detto prima è il materializzatore quando vi ho parlato dell'appunto del trasformare un range in un container però non funziona con int ve l'avevo messo un po' come trabocchetto funziona con altri container quindi ad esempio con per esempio con il con il tostring quindi potrei usare un transform e potrei poi usare adesso vi faccio vedere come così cioè posso prendere il range lo trasformo in stringa e poi lo posso convertire in un numero per esempio con stoy ok però la cosa fondamentale è che non non dovete pensare che esista toint l'ho messo anche un po' come trabocchetto e toint non esiste ok to container basta poi magari lo potete anche personalizzare con delle altre cose però per la libreria toint non c'è ok a questo punto siamo arrivati alla penultima domanda poi abbiamo praticamente finito quindi state tranquilli andiamo anche a cena dobbiamo togliere i doppioni come facciamo? abbiamo guardate l'esempio abbiamo i numeri il range con i numeri dobbiamo togliere i doppioni che facciamo? qui vediamo vediamo che cosa pensate di di fare riflettete bene su il significato di quelle proposte che sono state fatte là sotto ok riflettete bene no non ci credo nessuno ha azzeccato uno su chi è che l'ha azzeccata? chi è che l'ha mi scrivi in chat chi sei? ok a te ti do comunque un premio a prescindere no allora questo però è importante perché chiariamo ulteriormente le cose unique sort unique sono delle in questo caso unique potevate anche vederlo come una come una view oppure possiamo vederlo come una action allora se fosse una action quindi probabilmente sort unique ve l'avevo messa lì per dirvi action però la action che cosa vi ho detto? deve lavorare su dei dati materializzati qui abbiamo fatto talmente tante trasformazioni in mezzo che i dati non ci sono ok non abbiamo un container che ci sta contenendo questi dati abbiamo dei range quindi qua sort unique non li possiamo utilizzare anche unique da solo ci aiuta poco perché unique se lo usiamo come view non ci sta davvero rimuovendo i doppioni perché i dati non sono ordinati quindi non purtroppo non riusciamo a rimuovere i doppioni con unique se i dati poi non sono ordinati cioè quello che serve fare a noi non va bene una scelta possibile che è quella che Davide ha buttato dentro è quella di convertire tutto in un set ad esempio il set che fa mi toglie i duplicati potevamo anche mettere una ordered set non era un problema però in questo caso il set era una scelta giusta però è importante capire questo cioè sort unique non va bene perché non ho dei dati non sto puntando a dei dati quindi non posso usarli unique da solo neanche perché i dati comunque non sono ordinati ok a questo punto qui siamo arrivati in fondo voglio un unplane su questo cioè fate un unplane su questo perché se no dire che ho fatto una sessione schifosa mi devo andare a ritirare tipo in convento per dieci anni come stampiamo questo set quindi vediamo come stampiamo il set unplane allora due esatto due erano giuste messe apposta per voi due giuste chi è che ha messo unique to stream però mannaggia vabbè non lo chiedo no vabbè ma ci sta ci può stare sbagliare assolutamente tuo stream non esiste neanche lui non c'è usiamo viewwall quello che vi ho fatto vedere prima possiamo usare viewwall e possiamo usarlo in entrambe le forme quindi entrambe quelle che avete scelto erano giuste una persona ha scelto la versione fluente con la pipeline va benissimo altrimenti si poteva usare la prima vogliamo vedere ah bisogna anche vedere chi ha vinto l'altra in effetti mi sono dimenticato di farvelo vedere perché qui adesso possiamo vedere la leaderboard la leaderboard attenzione ha vinto attenzione Thomas grande Thomas vince Thomas questo l'ha vinto Thomas quindi sicuro non è che imbrogli ok ti mando lo screenshot no ci credo ci credo dai allora mi segno che sei tu così abbiamo il così ti do il il premio quando ci vediamo allora qua ho fatto una una cavolata prima però tanto secondo me i dati sono rimasti sopra e vi recupero quello di prima perché la leaderboard è rimasta memorizzata yes la leaderboard è qua di quello di prima eccola era Marco che aveva vinto eccolo si era già visto questo è il primo il primo quiz quello che abbiamo fatto prima questo vince Marco a seguire Yuri non so perché è cancellato onestamente comunque vince Marco grande Marco allora però vado ciao Ale saluti Adale vincono i primi due facciamo così che vincono i primi due per tutte e due i quiz dai anzi vince il primo e l'ultimo cambiamo tanto magliette a volontà comunque ha vinto Marco sicuramente ha vinto anche Snuggles come premio di consolazione per Snuggles chi è Snuggles? prima c'era Snuggles perlomeno vediamo se state scrivendo qualcosa e nell'altro invece vince Thomas e anche Love Sight chi è Love Sight? chi è Love Sight? si Davide si Davide pure ha vinto che aveva indovinato allora me li scrivo intanto qua vi lascio allora qua vi lascio poi quando avete tempo la forma di feedback ok allora facciamo Samuele me li scrivo Samuele ha vinto vabbè poi ha vinto Roberto Davide vabbè ovviamente Davide ma facciamo diversamente facciamo così sorpresa visto che le magliette ci stanno in realtà era già tutta una montatura vincono tutti quindi però vincono tutti quelli che sono rimasti fino adesso quindi questa è la sorpresa e sa era già tutto montato però vabbè non ci sono riuscito a farvi la cosa perché sto cacchio di Mentimeter mi ha mi ha mi ha mi ha l'ho chiuso e quindi ho fatto la cosa soltanto che devo devo esportarvi tutti quindi vi faccio al volo uno screen qui della della chat quindi ah no aspetta così vi faccio l'inception che è un po' brutto quindi facciamo una cosa così allora vi faccio un paio di screen però l'unica cosa è che questa qua dobbiamo dobbiamo capire poi quando riusciamo tutti quanti cioè quando riusciamo a vederci perché mi rendo anche conto che molti di voi non magari sono anche fuori dal dall'Italia adesso non so come come siete messi però fate una cosa ehm riuscite a scrivermi una mail riuscite a scrivermi una mail così mappo esattamente le persone con i con i vostri nomi tanto io li ho salvati però ad esempio allora Mugo non so chi sia per esempio Tony lo so Stefano ce l'ho ehm c'ho anche Rebecca Ilaria Leo Marco Marco questi ce li ho tutti Samuele ovviamente sì Franco ce l'ho ok dai allora mi serve soltanto sapere chi è Mugo che non so chi sia devi scrivermi una mail se non ti vuoi se non ti vuoi palesare qua però mi dovresti scrivere una mail così mi ricordo chi sei e per la prossima volta che ci vediamo ci becchiamo consegno in Austria eh si potrebbe consegnare pure in Austria perché prima tu puoi venire ad un evento ad un evento nostro comunque abbiamo chiudo abbiamo finito questa era la soluzione scritta per esteso e poi eh qui c'era un altro esempio che però vi lascio da vedere vi lascio da vedere a casa è una rivisitazione del FizzBuzz quello vi ripeto di nuovo eh codice sconto per per prendere questo librettino secondo me vi ripeto vale la pena è carino eh risorse addizionali vi lascio un po' di link non c'è tantissimo in realtà eh video ci sono tanti video su YouTube comunque su questo su questa libreria idee per allenarvi eh appunto come dicevamo il libro competitive programming quindi tutti quei siti però non hanno ancora il supporto quindi che significa che potete prendere l'esercizio da lì con anche qualche test e poi dovreste riscrivervelo con un compilatore che supporta i range quindi Onebox o Visual Studio Clang GCC come volete però non sono supportati direttamente là sopra Advent of Code se non lo conoscete è una bellissima iniziativa che si fa per l'arrivo dell'avvento a dicembre con 25 esercizi esercizi uno al giorno io vi dico che lo scorso dicembre l'ho fatto ho partecipato a questa iniziativa ci sono tutti gli esercizi anche degli anni passati sul sito e ci sono tantissime applicazioni possibili dei range se vi interessa io ne avevo messe alcune su Twitter quindi le trovate sul mio account Twitter e se vi va condividete anche con me queste soluzioni taggatemi su Twitter scrivetele sul nostro Slack come veramente preferite insomma se vi fa piacere a me fa piacere saluto intanto tutti quelli che stanno andando ma abbiamo finito ragazzi that's all that's all se avete domande fatele tranquillamente chat o in audio e in più ci sono per vi lascio da guardarveli e potete scrivermi tranquillamente su questo ci sono dei contenuti bonus ok vi ringrazio anche di essere rimasti fino a quest'ora spero insomma vi sia piaciuto spero più che altro vi sia rimasto qualcosa e che sia stato chiaro nel trasmetterevi quelli che sono un po' i principi secondo me più importanti per allenarvi con con questa con questa libreria quindi saluto tutti vi chiedo la cortesia se riuscite magari vi mando anche un'email a dare feedback alla sessione anche domani insomma quando potete vi manderò magari una mail di di recap dove troverete anche il link alle slide e il video verrà pubblicato entro qualche giorno quindi grazie a tutti grazie a tutti vi auguro buona estate speriamo di vederci presto anche personalmente e vi ricordo Italian C++ Conference fra una settimana se volete partecipare evento online accesso gratuito quindi posti assolutamente disponibili un saluto a tutti ciao Rebecca un saluto Carlo Tony Davide tutti quanti buonasera da tutti ci vediamo alla prossima rimango qui però stacco la registrazione grazie a tutti